C'era anche il sindaco di Arezzo in versione cowboy, il 41esimo cimento invernale che ha chiuso il suo lungo weekend arrivando in piazza del Duomo ad Arezzo. Circa 70 i cavalieri dell'associazione Truglia Ippo Trekking accolti dal primo cittadino Ginelli. Un tour caratteristico quello dei cavalieri che da venerdì a domenica hanno attraversato i sentieri più affascinanti della provincia retina. L'arrivo al Duomo nel weekend del buon turistico natalizio ha aggiunto ulteriore magia alle bellezze aretine. L'arrivo al Duomo nel buon turistico natalizio ha aggiunto ulteriore magia alle bellezze aretine. L'arrivo al Duomo nel buon turistico natalizio ha aggiunto ulteriore magia alle bellezze aretine. L'arrivo al Duomo nel buon turistico natalizio ha aggiunto ulteriore magia alle bellezze aretine. Grazie a tutti.